cari amici un saluto da tecno device o mi hai fatto questo pacco dalla cina qua c'è scritto che pone case sarebbe una cover ma io non ho ordinato cover non vorrei trovarmi una sorpresa ma ma se mi volete regalare un taglierino che non viene se io ne ho trovi danni ok che cosa sarà ma dai una scatola così ah la pellicola ma pensate un po' avevo contestato il venditore perché non era mai arrivata dopo 60 giorni mi aveva pure rimborsato secondo voi devo ridare i soldi no no non glieli do non glieli do non glieli do che cavolo pensavo che fosse qualcosa altro vabbè il video finisce qui perché non molto la dire anzi sì qualcosa la dire ciò allora ringrazio tutti i miei iscritti non sono tantissimi penso di essere arrivato se non si è cancellato qualcuno youtube non è che aggiorna subito a 21 ringrazio tutti i miei iscritti adesso devo fare il video migliore mi sta arrivando un po' di attrezzatura poi ringrazio i miei colleghi poi devo dire una cosa a Gaetano mio collega non fare la sociale cerca di iscriverti pure tu eh io non guardare i miei video senza iscriverti e niente poi volevo salutare Matteo Moltesi un youtuber che fa video anche lui non di tecnologia che mi è molto simpatico anzi ve lo consiglio niente finisce qua il video dai mettete vediamo se arriviamo a 5.000 mi piace sto scherzando mettetene un po' ciao alla prossima e speriamo che arrivi qualcosa di più interessante bye bye